Eccoci qui ragazzi, bentrovati sul canale. Come state? Tutto bene? Io decisamente alla grande. Oggi per questa nostra nuova puntata di Alla scoperta del rock ho deciso di portarvi una traccia italiana. Avevo inizialmente stabilito di portarvi una novità, una traccia anglofona che trovavo molto interessante, ma ahimè poi tutto l'interesse si è perso nel momento in cui ho saputo che il maestro Franco Battiato ci ha lasciato. Questo è una cosa molto triste, una cosa che però molti di noi si aspettavano perché le sue condizioni di salute erano già note da tempo e quindi è una notizia che stava proprio lì lì per arrivare. È accaduto e non si è mai pronti nonostante questo a cose del genere. Non serve ricordare che questa è una perdita incredibile per il nostro patrimonio culturale perché ci lascia un artista tutto tondo, un musicista che era anche regista, che era anche pittore, che era anche filosofo fondamentalmente, un tuttologo che però a differenza di tanti altri tuttologi ha saputo donarci veramente tante tante perle. Ecco, il nostro patrimonio musicale però spero conserverà i suoi migliori album come questo Fetus, che è uno dei più alti risultati raggiunti dalla sua discografia. Forse non fra i più alti in assoluto proprio, però è sicuramente uno dei suoi più grandi album. Un album che amo particolarmente perché è un po' un unicum, non solo nella nostra scena musicale, quindi appunto quella italiana, ma un po' altro, non esistono veramente degli album come questo in giro. E questo mi riempie d'orgoglio perché difficilmente in Italia innoviamo sotto determinati punti di vista. Lui invece lo ha cominciato a fare già dal suo primo disco, lui già nel 71 con questo Fetus, con questa copertina, già di per sé rivoluzionaria perché a differenza degli album cantatoriali dell'epoca che portavano tipicamente in copertina la faccia dell'autore, questo ci porta un feto vero o tanto tanto realistico, che creò scandalo perché i rivenditori dell'epoca non volevano esporre una copertina del genere e lo ritirarono da molti negozi. Un album rivoluzionario, vi dicevo, non solo per la sua copertina ma anche proprio per le sue sonorità che vanno a pescare da certa musica classica d'avanguardia, utilizzando per esempio la musica concreta, basti pensare all'intro di energia, c'è anche l'uso di un sintetizzatore molto particolare che proprio in Europa era stato poco utilizzato e qui lui ci pregna proprio il disco, lo strumento principale se vogliamo o comunque quello che va più in risalto, ecco, anche all'interno della traccia che sentiremo e poi c'è anche tanto folk, c'è anche insomma un po' un cantautorato tipico dei nostri fine 60 tutto mescolato assieme, qualcosa di veramente veramente bello. Andiamo ad ascoltarci la canzone, questa è Fetus, tratta dall'album Fetus del 1971 del nostro maestro Franco Battiato. Vai! Mi trascinavo ad agio, dentro il corpo umano, giù per le vene, verso il mio destino. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Secondi dalla fine perché il pezzo non si può stoppare prima, ho avuto anche un momento un po' di debacle interiore durante l'ascolto, è proprio una cosa incredibile per quanto mi riguarda. Cerchiamo di descrivere un pochettino questi quasi due minuti per poi proseguire fino alla fine dell'ascolto. E che cosa abbiamo potuto sentire? c'è un'atmosfera quasi elettroacustica all'inizio, molto soft, molto easy, se vogliamo, su cui poi si innesta la voce. una voce un po' sempre sul medio-alto, una voce che può trovare un paragone solamente nel Battisti di quegli anni, che però in Battiato trova un'aulicità diversa e particolare, che lo renderà la voce all'Abbattiato, ecco. soprattutto poi anche negli album successivi, qui c'è anche qualche momento un po' gridato all'interno dell'album, che negli album dopo non sempre è riscontrabile, cioè della grinta, che lo rende meno filosofico in senso classico, un po' più proprio rivoluzionario, se vogliamo. Poi che cosa accade? Parte questo battito, parte questo battito cardiaco, che fa da base al pezzo, Battiato ci canta sopra le gesta di questo nascituro, che si muove all'interno del corpo, poi l'album tratta una sorta di di nascita artificiale, di procreazione artificiale, quindi lui parla di questa nascita senza amore, che ahimè, possiamo riscontrare anche in tante nascite naturali, che quindi ha un effetto tutto suo e tutto particolare, e tutto metaforico. E poi a un certo punto parte questa melodia fatta con la tastiera elettrica, che è il piatto forte della canzone per quanto mi ricorda questa melodia, che è anche un po' anenia, profondamente drammatica, profondamente in bilico fra futurismo e arretratezza. Che è dirompente a livello emotivo, è il momento del cedimento, se vogliamo, dell'ascoltatore, già dopo un minuto e mezzo praticamente di ascolto, già c'è uno dei picchi del disco. E poi ci si innesta tutto un effetto di synth, che poi prosegue, sale in intensità, diventa quasi wagneriana, perché raggiunge proprio lo stato della calamità. Tutto ciò potrebbe presagire una sorta di esplosione cosmica, vera e propria. Musicalità, poi quella del synth, tipicamente anche un po' cosmica, non nella parte in cui vola così in alto, lì è un po' più dalle parti del Pink Floyd Wish Over Here, dove ci sono delle sezioni un po' così, wish vorrei che ricordiamocelo, cioè dopo quest'album, non dico che i Pink Floyd se ne siano, ne abbiano tratti ispirazione, però questo è molto importante, cioè utilizzare uno strumento in una certa maniera prima che i Pink Floyd lo rendano popolare. E, dicevo, c'è questo presagio quasi catastrofico, che sale in intensità, diventa un'atmosfera veramente da esplosione cosmica schulziana, e poi invece ciò non accade, ci si riferma, c'è questa stasi subito dopo. Forse è il momento post-nascita? Il momento subito dopo il concepimento? Non lo so, non lo so, è tutto così vago, ma è tutto così emozionante, è tutto così preciso in questa vacuità. Pezzo incredibile, lo ascoltiamo fino alla fine adesso e traiamo le nostre conclusioni. Questa è proprio una delle canzoni dove è più difficile in assoluto trovare lo spazio per bloccare e parlarne, perché ha dei momenti di stop, però posti molto a un terzo e veramente a tre quarti della sua durata, e è veramente complicato. Quindi ci siamo sentiti l'ultima parte, che trovo incredibile, proprio per questo suo essere l'ultima parte di una canzone che lasciava presagire altro, e che invece si libera in questa progressione acustica folk, puramente folk, che mi ricorda anche un pochettino l'utilizzo acustico del finale, del primo album The Faust, su cui però Battiato inserisce un canto quasi gregoriano. Questa è la fine del pezzo, che racconta la nascita, ma sembra un po' un requiem, e tutto ciò è emozionante proprio. Canzone geniale, canzone proprio geniale, bellissima, una delle mie preferite in assoluto, che ho voluto portarvi qui oggi. Della musica vi ho parlato, vi ho detto un po' tutto quello che penso della canzone, non darò il voto al pezzo perché non è il giorno giusto per farlo, non è proprio il momento, almeno penso non sia proprio il momento, non ho neanche abbastanza la lucidità per fare ciò, e per farlo al meglio. Quindi mi fermo alla descrizione del pezzo e all'invito che vi faccio di ascoltarvi più possibile la musica del Battiato che valeva, che è quello che parte dal 71, arriva a fine 70, cesella qualche disco interessante, se non bellissimo, negli 80, qualcuno, una manciatina ancora più esigua, ma comunque anche lì spiazzante nei 90, e poi va così, diventa il patron di altri cantanti, che renderà forse celebri lui stesso, e si spegnerà in questo 18 maggio del 2021, e che noi celebriamo con un album che parla di nascita, la cui prima traccia finisce quasi come se fosse un Requiem a morte, ecco, in nome del genio di Franco Battiato. Io chiudo il video qui, vi invito a mettere like se questo contenuto vi è piaciuto, commentate dicendomi cosa ne pensate, vi invito anche ad iscrivervi, così raggiungeremo questo fantastico obiettivo dei 1000 iscritti, che è necessario per questo canale, e anche per tenere un pochettino su l'asticella della mia soddisfazione, quindi iscrivetevi se potete e se volete, seguitemi da Instagram dove posto sempre nuove stories, vi tengo aggiornati sui contenuti del canale, e soprattutto da lì posso darvi il link per entrare nel Telegram della nostra community, dove si parla di musica 24H in maniera anche molto molto piacevole, quindi se siete interessati chiedetemi il link tramite Instagram, che ve lo mando assolutamente. Oggi non farò discorsi sul copyright e sulla demonetizzazione, magari quello se ne parlerà in un altro momento, non ho voglia di parlare di soldi in situazioni come queste, e semplicemente vi rimando al video di domani, che spero sarà molto molto meno triste, meno proprio doloroso in senso stretto, e che possa portarci comunque della grande musica, che difficilmente raggiungerà il vertice di questa prima traccia di Fetus, ma che comunque, finché è buona musica, non si butta niente. Ok ragazzuoli, io vi do l'appuntamento alle 12, sempre su questo canale, e sempre con Alla Scoperta del Rock. Ciao!